Questo è il malocchio, erano importanti. La gente invidiosa, sennò faceva il malocchio. E' nata la passione che io da piccino il mio babbo faceva il macellaio e andava nelle stalle a comprare vitelli, questa roba qui, e vedevo questi animali domati che ci lavoravano e mi c'è entrata sempre più la passione, la passione, fin da piccino. Dopo è arrivato il giorno che ho deciso, ho comprato due vitelli, ho iniziato, ho fatto i primi bovi, 30 anni fa. Loro mi riconoscono alla voce a un chilometro e poi c'è anche il lato effettivo, l'affezione agli animali bravi, boncetti, si porta il bastone proprio per tradizione ma con loro non c'è bisogno. Ho avuto un bovi che nel 2010 è stato allo sciodere a Cortez, era due metri e tre ai carrese d'altezza. Ha vinto lui il bule più alto del bule. Ci potrebbe essere questo qui, però non c'è altro. Questo è quanto è alto? Questo è due e tre, due e quattro. La via di casa è l'unica cosa a puntare che hanno e la via di casa la riconosco sempre. La via di casa è l'unica cosa a puntare che hanno e la via di casa la riconosco sempre. La via di casa è l'unica cosa a puntare che hanno e la via di casa la riconosco sempre. Grazie. 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 Grazie.